Ho deciso di redigere questo manuale sulla base dell'esperienza di successo di tanti anni nella gestione del personale all'interno di un'impresa. Il testo è un compendio di strategie semplici ma tremendamente efficaci. Ogni capitolo descrive in modo pratico un'attività legata alla gestione del personale che l'imprenditore o il manager deve imparare a svolgere all'interno della propria azienda. Applicando quanto trattato nel capitolo apporterai immediatamente e senza tante difficoltà dei cambi di rotta nella specifica componente che viene discussa e potrai osservare quasi contestualmente un cambiamento nei comportamenti e nella produttività delle persone e del settore coinvolto. Per quanto composta di poche pagine questa guida pratica si prefigge uno scopo portentoso aiutarti a migliorare in modo progressivo la qualità delle risorse umane o delle persone che compongono la tua azienda. Per realizzare i propri sogni un imprenditore ha bisogno delle persone giuste. Sono le persone che determinano il successo o il fallimento di qualsiasi idea imprenditoriale. Grazie alle informazioni contenute in questo testo imparerai a riconoscere le persone giuste, ad evitare quali sbagliate e nel complesso diventerai in grado di costruire un gruppo motivato e molto produttivo.